Presidente Sini, qual è la filosofia del programma? Mettere in rete quello che già esiste sul nostro territorio riguardo agli eventi che raccontano la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni e raccontano soprattutto la forza della nostra cultura materiale, quella dell'agroalimentare. Molte di queste situazioni già esistono e riescono anche a produrre una forte attrattività. Diciamo che sono sul mercato e si fanno conoscere, ma abbiamo visto che agivano troppo da sole e qualche volta con standard di qualità fortemente differenti. La filosofia è mettere insieme, riuscire a far diventare questi vari eventi degli appuntamenti che messi insieme possono diventare un prodotto vendibile dal punto di vista turistico sia a livello locale che nazionale che internazionale. Quali appuntamenti in particolare? Beh, quelli che ricordano la nostra tradizione saranno sicuramente tenuti in prima battuta, quindi tenuti in conto in prima battuta, però anche nuovi eventi e nuove attività che si possono sviluppare sui territori e con le quali i territori hanno trovato magari un sistema per farsi conoscere nel mondo e quindi per produrre insieme all'impresa valore aggiunto. Le imprese saranno la discriminante. L'altro elemento della filosofia è che molti eventi di tipo culturale qualche volta non atterrano sul piano economico e quindi non integrandosi con le nostre associazioni di categoria e con il nostro sistema imprenditoriale non producono lavoro aggiuntivo e non producono valore aggiunto. La filosofia del progetto serve proprio a questo, costruendo un prodotto e costruendolo insieme ai vari operatori che organizzano, ma anche insieme agli operatori economici che poi offrono i servizi, appunto riuscire a farlo diventare un prodotto che crea valore aggiunto per tutti e che poi ben distribuito serve anche essere reinvestito per crescere sempre con questa attività.